Da oggi per chi proviene dall'interquartieri di Fano in bici o a piedi potrà contare di percorrere finalmente in sicurezza il tratto del piazzale Campioni dello Sport in zona trave grazie alla realizzazione di una nuova pista ciclopedonale. Infatti questo luogo era oggetto di pericolosi slalom dei ciclisti tra le auto visto che la ciclabile si concludeva proprio all'interno del parcheggio. Quest'opera realizzata da ASET SPA è stata realizzata in calcestruzzo vibrato e spazzolato con una tonalità cromatica di colore rosso simile a quelle utilizzate per tutta la parte dell'interquartieri. Qualche giorno fa abbiamo aperto questo tratto di ciclabile che prosegue dalla ciclabile dell'interquartieri e raggiunge via di Villa Tombari e via Modigliani. Questo tratto fa parte della ciclabile dell'Arzilla quindi è molto importante perché congiungerà il quartiere di Gimarra, Arzilla, Paleotta con il Poderino a zona del cimitero. Vediamo come si sta sviluppando la rete delle ciclabili in questa parte di città che proseguiremo con i lavori e verrà completata nell'arco di quest'anno. La ciclabile è larga 3 metri, lunga 200 metri, completamente illuminata, raggiungerà via di Villa Tombari e via Modigliani per poi proseguire in via della Paleotta fino alla ciclabile dell'Arzilla verso la foce del torrente. Inoltre l'assessore Tonelli ha annunciato i prossimi interventi che riguarderanno tutto il tratto di Viale Kennedy. Invece i prossimi lavori riguarderanno Viale Kennedy? Poi ci sposteremo con i lavori in Viale Kennedy dove varrà riqualificata la ciclabile esistente. Oggi è una corsia, domani vedremo una ciclabile a doppio senso di marcia quindi protetta con un cordolo.